Tavola imbandita cenone Natale pietanze. Corbis. Gli italiani non rinunciano all'appuntamento più tradizionale dell'anno. Hanno speso a tavola quasi 2.5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Quasi 9 italiani su 10. L'86% hanno trascorso la classica festività a casa con parenti o amici. E' questo il bilancio della Coldiretti che conferma un aumento del 9% rispetto allo scorso anno. Della spesa per l'alimentazione con una spesa di 94 euro a famiglia. A prevalere stato il made in Italy. Con tavole ricche di prodotti tipici e cibi esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle. Tavole dove invece si sono affermati ha evidenziato la Coldiretti il bollito. I polli arrosto, i cappelletti in brodo, le pizze rustiche e i dolci fatti in casa. Con il record di una media di 3. 3 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti. Secondo l'indagine Coldiretti X. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per quasi 9 italiani su 10. 90% A pari merito con la frutta locale di stagione. Mentre il panettone con il 76% batte nelle preferenze il pandoro fermo al 70%. La maggioranza delle tavole imbandite con men a base di prodotti o ingredienti nazionali hanno comportato una spesa stimata secondo l'analisi Coldiretti. I X i 900 milioni di euro per pesce. E le carni compresi i salumi. 450 milioni di euro per spumante. Vino ed altre bevande. 300 milioni di euro per dolci con gli immancabili panettone. Pandoro e panetteria. 500 milioni di euro per ortaggi. Conserve. Frutta fresca e secca. 200 milioni di euro per pasta e pane e 150 milioni di euro per formaggi e uova. Prodotti regionali tipici le tavole si sono arricchite soprattutto di prodotti regionali. Il Lazio per la vigilia privilegia fritto misto di verdure. Broccoli e carciofi. Bacca al fritto e il capitone. Per il giorno di Natale. Abbacchio al forno con patate e cappelletti in brodo. Bollito misto e tacchino ripieno. Come dolce il pan pepato. Come in Umbria. E il pan giallo. In Emilia Romagna come antipasto il tradizionale culatello di Zibello. In Abruzzo la minestra di cardi e la zuppa di castagna e ceci. In Molise la pizza di Franz. In Basilicata il picci le shed. Una specie di panettone con le mandorle. In Calabria come antipastola soppressata con aggiunta di pecorino crotonese e caciocavallo silano. In Sardegna i culurgione e de casu. Ravioli ripieni di pecorino fresco. Bietola, noce moscata e zafferano. Conditi con sugo di pomodoro e pecorino grattugiato. In Sicilia buccellati di enna. Dolci ripieni di fichi secchi. In Puglia le cartellate. Dolci fritti a forma di rosa e guarniti con miele o mosto. Nelle Marche i maccaroncini di Campofilone in sugo. In Toscana il brodo di cappone in tazza. In Campania l'insalata di rinforzo. In Lombardia il pan di Tony e il panettone. In Liguria il pan dolce. Impasto di farina, uvetta, zucca candita a pezzetti. Essenza di fiori d'arancio. I pinoli, pistacchi, semi di finocchio, latte marsala. In Valle d'Aosta la carbonata con polenta. In Piemonte il cappone di Morozzo al forno. In Veneto il lesso di manzo al crene. Salsa di raffano. Con contorno di pur di patate e il pandoro di Verona. In Friuli Venezia Giulia la brovada e muse. Zuppa di rape e cotechino. Con polenta. In Trentino Alto Adige e Canederli. Polpettine di pane raffermo. Speck, pancette e salami. Farina, uova, latte e brodo condite con spinaci. Funghi o fegato di vitello. Che possono essere conditi, una volta lessati, anche con barro fuso e formaggio oppure rag di carne. Altro su MSN. Le conseguenze politiche sulla questione banche 20 dicembre 2017 sponsorizzato. Maggiore maggiore scarica Office 365 e ottieni 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Acquista maggiore maggiore.